Chiediamo a tutte le parti di adottare misure urgenti per smorzare le tensioni e creare le condizioni per la sicurezza e la stabilità che gli israeliani e i palestinesi meritano. Lo ripete Anthony Blinken a poche ore dal suo incontro col presidente palestinese Abu Mazen, ma sa bene che la soluzione del conflitto è sempre più lontana, tanto più col governo più a destra della storia dello Stato di Israele che vuole revocare la cittadinanza ai terroristi palestinesi e armare i civili israeliani. Come lo sono già la gran parte dei coloni che vivono negli insediamenti illegali in Cisgiordania, distribuiti in modo tale da rendere di fatto ormai impossibile un'unità territoriale per un futuro Stato palestinese. L'autorità di Ramallah è sempre più ininfluente, ha piccol consenso dell'anziano presidente Abu Mazen, logorato dalle faide interne e da una leadership corrotta, sfiduciato dai giovani che riprendono in mano le armi. Poco prima di incontrare il segretario di Stato americano, l'autorità palestinese ha fatto marcia indietro sul congelamento del coordinamento per la sicurezza con Israele, ben sapendo che ne ha bisogno perché i territori non piombino nel caos, così come già lo sono le aree controllate e le milizie armate. Da Hamas alla jihad islamica a neonati leoni di Nablus, convitata di pietra alla guerra in Ucraina con l'Iran che fornisce droni militari alla Russia. Non è un caso che ieri il Cremlino abbia condannato l'attacco con droni di sabato sera in Iran, operato verosimilmente dal Mossad israeliano. Un avvertimento ad Israele che ha bisogno della copertura aerea di mosche in Siria e non ha mai applicato alcuna sanzione alla Russia.